Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per andare a scegliere quali sono le nostre skin preferite di ogni singolo brawler e direi che con l'arrivo della nuova skin di rosa è arrivato il momento di fare questo video è vero, non tutti i brawler, non tutti e 40 i brawler hanno una skin infatti per esempio Ambra, il nuovo brawler leggendario, è soltanto quella standard però dopo l'arrivo della skin di rosa che è stato praticamente un evento direi che è arrivato il momento di andarla a fare questa challenge anche se non è una challenge diciamo questo video mi raccomando ragazzuoli fatemi sapere sotto nei commenti qual è invece la vostra skin preferita in assoluto del gioco proprio qual è la vostra skin preferita tra tutti i brawler anche se non l'avete proprio in generale arriviamo a 10.000 like se vorreste un video in cui vado a far scegliere a mia madre le sue skin preferite di ogni singolo brawler ho detto mia madre perché un po' di tempo fa feci il video in cui ad ogni brawler lei doveva dare un nome senza sapere quello originale e vi è piaciuto tantissimo quindi ora vi potrebbe piacere tantissimo anche un video dove ad ogni brawler va a scegliere la sua skin preferita mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto ma soprattutto vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars e anche tutti gli altri giochi Supercell sì lo so molti di voi si stanno scandalizzando perché ho pochissimo oro ma soprattutto non ho shoppato ancora tutte le skin dorate in realtà mi manca solo Frank ma sto aspettando che esca un nuovo gadget o due nuovi gadget ancora meglio per cercarli in tutte queste box enormi che mi sto attenendo appunto per raccimolare l'oro queste 53 box enormi dovrebbero bastarmi nel raccimolare una 20.000 di oro circa che mi servono per shoppare Frank 24 carati che è l'ultima skin dorata che mi manca così almeno faccio tre piccioni con una fava cioè con 53 box mi trovi due gadget penso e spero e in più mi andrò a shoppare Frank tanto ribadisco mi manca solo lui ce l'ho tutti i giorni nello shop detto questo ragazzi non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere andiamo con la scelta allora partiamo ovviamente da scegli le ho messe in ordine di rarità abbiamo quella standard, quella bandita, la stellare a cui sono particolarmente affezionato quella strega, quella del Paris Saint Germain e poi quella dorata con quella argentea io vi dico ragazzi che la mia preferita è quella strega perché è quella sì più particolare probabilmente se vado a memoria è quella anche che costa più di tutte ed è davvero molto molto carina tanta tanta roba però pezzo di cuore è sempre per scegli stellare perché penso sia la skin più rara che ho e poi perché è quella che ho usato per tantissimo tempo proprio con scegli però andrei con quella strega per quanto riguarda Anita ragazzi la scelta è davvero molto ardua perché ha 5 skin ma secondo me tutte 5 bellissime a partire da quella standard ma anche tutte le altre 4 che ho poi ricordiamo Nita Koala che è uscita fuori per un'occasione speciale per gli incendi in Australia Supercell ha fatto la donazione mega galattica con tutti gli introiti che ha avuto appunto dallo shop di Nita Koala diciamo che se un pezzo di cuore è per Shelly stellare un pezzo di cuore è anche per Nita Koala per il significato che c'è dietro però se devo scegliere la mia skin preferita vado a scegliere Nita Rudolph perché l'ho shoppata la prima volta che uscì nello shop quindi due natali fa, due anni fa praticamente e anche se l'hanno fatta uscire lo scorso anno per un annetto circa è rimasta una skin davvero rarissima e poi perché regà è bellissima a me piace davvero da morire con l'orsacchiotto che ha sempre la tutina regà spettacolare poi tra l'altro ci stiamo riavvicinando al Natale non vedo l'ora arriviamo a Colt ragazzi allora abbiamo ovviamente quello classico abbiamo quello Rockstar abbiamo la Guardia Imperiale abbiamo il Fuorilegge e c'è il Corsaro tra l'altro sappiamo anche che è stato annunciato il Colt quello speciale della Championship vi dico che se fosse già uscito quello lì avrei scelto a mani basse quello lì però dato che non c'è quello della Championship vado su Colt Corsaro perché è quello un po' più particolare quello che ha l'animazione un po' più particolare sì sarò abbastanza ovvio nelle mie scelte perché vado a scegliere quella più bella e mi piace tantissimo appunto Colt Corsaro ah ovviamente ragazzi non è che se scelgo una skin le altre non mi piacciono ve l'ho detto Nita tutte mi piacciono di Nita anche di Colt anche di Shelly però ovviamente scelgo quella mia preferita comunque passiamo a Bull c'è ovviamente quello normale quello vichingo il Quarterback che tra l'altro c'è anche quello blu che costa in diciamo punti stellari abbiamo poi quello dorato e quello argenteo ah vi dico quello vichingo è bellissimo secondo me l'ho utilizzato per tantissimo tempo però quello Re Barbaro regà mi ha stregato immediatamente ed è bellissimo anche l'animazione no che con la spada prende parte è davvero bellissimo quindi vado su Bull Re Barbaro passiamo a Jesse ragazzi abbiamo ovviamente quella classica quella draghiera abbiamo quella estiva abbiamo anche quella Tanuki e c'è Alena Draghi tra l'altro piccola cosa e voglio precisare di Jesse non ho quella del Cavaliere Nero cioè Jesse Cavaliere Nero mi sembra si chiami così perché io ho tutte le skin sia quelle che si pagano con l'oro tranne Frank ma già vi ho spiegato che quelle che si prendono con le gemme però quelle con i punti stellari ci sto un attimino lavorando nel senso che ho 110.000 punti stellari ma ancora non le ho shoppate un po' tutte sto aspettando vedo un po' se ne escono anche di nuove eccetera eccetera ma comunque stavo dicendo che per Jesse sceglierei a mani basse quella appunto Cavaliere Nero perché secondo me è bellissima però non avendo quella skin tra le mie vi dico che la mia preferita è la Jesse estiva perché mi piace troppo la torretta a paperella poi spara acqua è davvero fantastica secondo me arriviamo a Brock ovviamente c'è quello standard c'è quello vacanziero c'è il B-Boy poi c'è quello Kung Fu Brock quello cinese fondamentalmente Brock McQueen e poi c'è il Brock Super Ranger che è davvero bellissimo ma io vi dico che il mio preferito è il Brock vacanziero perché lascia le pozze d'acqua e spara squali regà io sono stra-affascinato dalle skin che hanno delle animazioni particolari per i colpi e per gli effetti diciamo così e quello vacanziero è il mio preferito tra quelli appunto che ci sono tra le varie skin mi piace molto anche quello Kung Fu mi piace tantissimo anche quello McQueen però ragazzi il mio preferito rimane appunto il Brock vacanziero con gli squali passiamo al buon Dynamike c'è ovviamente quello standard il babbo da Natale che è spettacolare lo chef Dynamike il Dynamacchina e poi c'è il CT Dynamike anche i Dynamike regà mi piacciono bene o male tutte anche tanto però il CT Dynamike ha qualcosa in più io ovviamente sono un appassionato di calcio questo spara palloni è praticamente un CT regà vado con quello del calcio e ragazzi qui arriviamo a una delle scelte più difficili perché abbiamo il Bo normale il Bo Mecha poi abbiamo l'Horus Bo e c'è anche il Bo Diabolico ricordiamo che c'è anche quello bianco di Bo che mi sembra che ce l'ho anche tra l'altro nello shop no ok scherzavo e poi c'è ovviamente anche quello dorato vi dico uno dei miei preferiti è quello bianco neanche quello dorato però la battaglia se la giocano un po' il Bo Diabolico e l'Horus Bo allora io vi dico per quanto riguarda le animazioni io preferisco l'Horus Bo perché questa posa tutta molto divina no? possiamo dirlo però a livello estetico ragazzi io preferisco il Bo Diabolico allora se potessi direi pareggio perché a livello estetico preferisco il Bo Diabolico ma a livello di animazioni preferisco l'Horus Bo è vero che prima ho detto che preferisco le animazioni alla grafica diciamo alla bellezza della skin però secondo me questa è troppo più bella rispetto all'Horus Bo che comunque rimane per me una delle mie skin preferite infatti proprio per quello vi dico che è la scelta più difficile quindi io vi direi un pareggio però se proprio ne devo scegliere una probabilmente sceglierei il Bo Diabolico anche perché è vero che le animazioni sono più belle quelle dei Horus però per quanto riguarda il Bo Diabolico ci sono comunque delle animazioni davvero molto belle cioè già il fatto che prende l'arco che sembra quasi lo va a prendere dagli inferi anche se non c'è un'animazione così particolare è tanta roba allora per Tic non è che abbiamo tanta scelta c'è quello standard e c'è quello regranchio raga vado sul regranchio ma semplicemente perché è un po' più diciamo customizzato un po' più particolare è carino pure quello normale però raga regranchio è regranchio troppo bello allora passiamo ad 8 bit anche lui poche skin perché ha quella standard ha quella vintage che semplicemente è un po' una modifica di colori un po' diciamo che qui ha un altro tipo di bottoni di tasti anzi tasti diciamo tasti e quindi c'è anche quello vintage però vado sull'8 bit malware perché secondo me è palesemente più figo c'ha le zampette che mi triggerano perché io sono arachnofobico questo c'ha un po' appunto le zampette da ragno però vabbè ci passiamo sopra la nostra cara Ems ragazzi allora c'è quella standard c'è la studentessa c'è quella dorata quella argente e poi c'è l'Ems fan sfegatata e io vi dico che vado proprio sulla fan sfegatata ragazzi perché ha delle animazioni davvero spettacolari poi ha c'è regà vedete c'ha tipo gli oggettini dei vari brawler poche, 8 bit jesse i calzini di spike regà solo per questo merita tutto anche per quanto riguarda il primo sarà abbastanza difficile la scelta perché c'è quello standard c'è quello oscuro c'è quello regale c'è l'El Brown regà c'è quello dorato c'è quello argento e c'è l'El Atomico allora io sono sempre stato combattuto ultimamente quando gioco tra l'El Atomico quindi quest'ultimo e l'Oscuro perché secondo me sono quelli due un po' più traiardini e secondo me anche più belle a livello proprio di grafica però regà l'El Brown è troppo troll cioè non posso non scegliere l'El Brown è troppo troll quindi ovviamente vado sull'El Brown anche Bombardino ha delle skin molto interessanti perché c'è quella standard c'è quella d'oro c'è quella stregone che c'è anche la versione rossa sempre con i punti stellari che però non ho ancora shoppato c'è quello casalingo taglialegna e poi ci sono quelli dorati e argenti allora io vi dico che quando gioco solitamente uso quello taglialegna perché secondo me è un po' per il discorso e facevo anche per l'El Primo è quello un po' più carino e più bello poi con sta pellicciotta sta giacchetta è davvero figo però regà il bombardino casalingo è troppo troll cioè è lo stesso discorso di El Primo cioè scelgo quella troll mi piace troppo perché appunto è troll quindi andiamo sul bombardino casalingo anche se non lo uso quasi mai perché non so perché è una cosa mentale con le torte non mi trovo non mi trovo a lanciare torte preferisco lanciare il succo d'acero regà vabbè anche per Pocho non è che abbiamo così tante scelte c'è il Pocho normale quello romanticone vi dico tranquillamente che preferisco il Pocho Star è quello un po' più particolare perché qui quello pirata l'ho usato per tanto tempo perché era la mia preferita prima di Pocho Star però è un po' quello che pulisce non lo so regà mi dà un po' la sensazione di relegato a quel compitino cioè se l'avessero fatto tipo come pirata però tipo che ne so il vero pirata ok così boh gli hanno relegato un po' un ruolo di basso livello diciamo così e quindi tendo a non sceglierlo e poi perché risulta essere davvero piccolo in game che forse è meglio forse è meglio però Pocho si è abituato a vederlo con questi cappelloni e quindi vi dico Pocho Star Rosa regà vabbè perdo poco tempo vi dico direttamente Rosa o Bralloween perché è veramente veramente bellissima regà è davvero davvero troppo troppo bella quella normale comunque rimane col suo fascino anche hanno modificato le sue animazioni rimane davvero bella però quella questa nuova è davvero qualcosa di spettacolare il signor Steak ragazzi pensavo avesse meno skin invece pure lui è arrivato un bel po' di skin perché c'è il re stecca stecca scoppiettante lo stecca brigante lo stecca guardia e poi ci sono appunto quelle nuove dorate e argente io raga vi dico che di stecca il mio preferito è il re stecca regà mi piace davvero da morire anche lo stecca scoppiettante è davvero molto carino ma anche alla fine lo stecca guardia però boh quello il re stecca è davvero bellissimo regà beryl ha poca scelta pure lui e vi dico tranquillamente beryl mascotte sempre per il discorso del calcio che faccio per dana mike penny pure non ha tantissima scelta c'è quella normale c'è l'elfa penny c'è la penny pasqualina e c'è la penny lepre nera anche se non c'è troppa scelta secondo me ha tre skin oltre quella standard davvero carine perché comunque la penny pasqualina e l'elfa penny meritano secondo me però la mia preferita è la penny lepre nera è davvero spettacolare secondo me molto molto bella è perché l'ho shoppata con i punti stellari e lo sapete sono abbastanza tirchio con i punti stellari carl è un altro di quei brawler che ha poche skin ma buona perché c'è quella standard che comunque a me piace c'è il carl spericolato c'è il carl domatore di cinghiali quello leonard e quello bucaniere e io vi dico che sceglierei a mani basse il domatore di cinghiali però ragazzi l'animazione del carl bucaniere è spettacolare a parte che lancia l'ancora praticamente ma poi carl quando cammina con questa skin c'è l'effetto acqua sotto di lui che secondo me è spettacolare quindi vado sul carl bucaniere jacky non ha troppissima scelta standard jacky operaia e jacky perfora tutto regà vado a mani basse su perfora tutto è davvero spettacolare altra skin che ne ha poche ma buone secondo me è piper perché già quella standard a me è sempre piaciuta piper rosa gli da quel tocco femminile in più con il rosa appunto tanta roba piper calavera e piper cupido sono bellissime e poi ci sono quelle appunto 24 carati argenta ma regà io vi dico che piper cupido secondo me sta un gradino sopra tutte le altre mi piace davvero tantissimo pam regà stesso discorso di rosa cioè mi piace quella standard però questa qui da spiaggia è davvero spettacolare poi spara acqua tanta roba quindi ovviamente pam da spiaggia ah ragazzi frank riprendo il discorso di prima non ho quello dorato ma tanto vi dico che non avrei scelto comunque quello dorato e vi dico una piccola chicca di frank io come skin avrei scelto a mani basse il frank cavernicolo che a me piace particolarmente tanto ma vi giuro ogni volta che uso questa skin perdo quindi tipo l'ho bocciata completamente da tutti i miei pensieri e quindi scelgo sempre il dj frank quindi vi dico preferirei il frank cavernicolo ma scelgo il dj frank perché con quello cavernicolo perdo sempre non so perché bibi regà c'è poco da dire nel senso che quella normale a me è sempre piaciuta questa ragazzi ha un'animazione spettacolare con questa spada che viene lanciata però regà zombibi regà zombibi è zombibi quindi non posso non sceglierla però vi dico che ogni tanto quando utilizzo bibi tolgo questa skin che comunque utilizzo per la maggiore utilizzo comunque la bibi eroica perché regà è davvero spettacolare questa animazione della spada però zombibi è zombibi bea regà c'è poco da dire c'è quella con l'ape c'è quella con la coccinella molto standard e bellissime però quella la scarabea regà c'ha quel qualcosa in più quindi ovviamente dico scarabea iris tipo un 8 bit che però non ha quella skin particolare quindi tra le due vi dico l'iris retro ma semplicemente perché mi piace di più l'accompiamento di colori e perché l'arancione è il mio colore preferito e c'ha l'antennina arancione quindi vado sull'iris retro mortis regà col fatto che hanno aggiunto la versione dorata e argentea in maniera doppia diciamo sia col cappello che non che ormai ha tipo 20 skin praticamente ovviamente lo shoppate sempre tutte e vi dico che la mia skin preferita di mortis è il mortis predone raga secondo me è spettacolare fino a qualche tempo fa ero fissato col mortis rocchettaro perché il pettine mi piaceva molto in game però ragazzi quello predone è davvero qualcosa di spettacolare per la prima volta non ho scelto quella troll che sarebbe stata la mortis strega notturna ma ci sta comunque tara ragazzi poca scelta standard bellissima turchina molto carina però raga tara ninja urbana è spettacolare vado palesemente su di lei raga eugenio penso sia la scelta più facile di tutte perché quello normale mi piace quello corsario è davvero molto carino però raga l'eugenio malvagio tra l'altro un po' di tempo fa quando ho fatto il torneo delle migliori skin ha vinto lui quindi ve lo potete aspettare che l'eugenio malvagio fosse una delle mie skin preferite quindi ovviamente avrei scelto lui per quanto riguarda maxine raga due color correction tra l'altro tra queste due preferivo anche quella normale quindi questa qui standard però questa maxine casual è davvero molto molto carina quindi vado su di lei mister p raga non è che c'ha tutta sta scelta vado sulla gente 007p non mi è inventato completamente a caso ma semplicemente perché è un po' più cattivo un po' più serio diciamo lui si direttore d'albergo ma la gente 007p tanta roba raga semino ve lo devo anche dire pure lui mi piace quello standard carinissimo quello tropicale perché è un po' troll ed è bellissimo con il post-it con gli occhiali da sole però raga il semino lunare il semino lunare quanto è bello passiamo al cactus ragazzi spike normale bellissimo sakura fantastico automa molto bello però quello con i post-it raga bellissimo cioè ragazzi è veramente veramente carino tutte le facce di spike mi piacciono da morire con questa skin quindi vado con spike mascherato corvo un po' lo stesso discorso che faccio prima per boh c'è quello oscuro di cui c'è tra l'altro la skin nello shop c'è quello dorato ma tanto vi dico che nessuna delle due avrei scelto anche se quello nero mi piace tantissimo anche più di quello dorato ma raga vado con questo fenice raga cioè davvero spettacolare corvo fenice tra l'altro quello bianco quando hanno fatto il rimodell ha preso un po' di punti perché comunque è carina però quello fenice rimane quello fenice tra l'altro 350 gemme lo pagai cioè pazzesco leone è un altro brawler che ne ha poche ma buone perché pure quello standard mi piace molto quello squalo pure lupo mannaro non ne parliamo quello selli è carino perché lancia le uova e poi c'è quello dorato e quello argento io vi dico col tente mi sono fissato un quello dorato però se ne devo scegliere una ragazzi il lupo mannaro le batte tutte è davvero spettacolare Sandy raga non è che c'ha così tanta scelta e vi direi il Sandy golosone ma sempre per il discorso dell'animazione della skin in sé che è molto carina comunque Ambra raga non ha skin quindi vado su questa qui e faccio una piccola premessa io spero da morire che di Ambra le sue skin saranno altri elementi per dirvi un'Ambra ghiacciata che spara un raggio di ghiaccio oppure un'Ambra di acqua che spara un raggio d'acqua potrebbero fare delle skin particolari sempre col fuoco ma se facessero un'Ambra tipo elettrica ma che spettacolo sarebbe una cosa del genere non sarebbe male è vero un effetto come Ambra lo puoi fare solo con lanciafiamme quindi puoi lasciarla solo col fuoco e quindi modificare un po' soltanto la skin però con un po' di fantasia secondo me Supercell può tirar fuori delle cose davvero molto interessanti fatemi sapere che ne pensate nei commenti il buone caro vecchio gelindo regà pure lui c'ha poca roba vi dirò io utilizzo il gelindo mercante ma solo per far vedere che ce l'ho però per quanto riguarda gelindo io rimango su quello standard perché comunque già dal nome richiama il ghiaccio c'ha l'abilità stellare che comunque richiama sempre il ghiaccio inverno rigido raffrica impetuosa che comunque sempre di ghiaccio stiamo parlando quindi regà io comunque sceglierei quella standard graficamente parlando si è più carino il gelindo mercante però boh mi piace di più il gelindo normale ribadisco per le cose che dicevo prima quindi è il primo brawler di cui scelgo la skin standard ma poi non è che le altre non le ho scelte perché non mi piacciono perché per esempio anche di energetic a me forse piace un po' di più quella standard però questa qui che c'ha sto spadone sta armatura tendo ad utilizzare di più appunto questa qui e vi dico che preferisco anche questa qui però in realtà non lo so boh cioè se ne dovresti scegliere una probabilmente scegliere questa standard però avendole tutte e due scelgo questa è un discorso un po' contorto però è così c'è poco da dire colette ragazzi invece c'è pochissimo da dire perché ok quella standard mi piace ma quella maligna io l'ho sempre detto supercell con quelle maligne c'ha quel qualcosa in più infatti ragazzi sapete un altro tema che mi è venuto in mente ambra maligna che spara fuoco nero fuoco nero ragazzi pazzesco sarebbe una cosa pazzesca comunque ragazzi queste sono le mie skin preferite di tutti e 40 i brawler il video durerà tantissimo ma va bene così mi raccomando vi ricordo codice creatore gg yt tutto attaccato nello shop di brawl stars e anche tutti gli altri giochi supercell iscrivetevi al canale se questo è fatto lasciate un bel mi piace da 10.000 like farò scegliere tutti i brawler preferiti a mia madre magari farò una cernita perché ecco già io da solo 20 minuti e passa di video forse comunque ci avviciniamo i 20 minuti con lei forse superiamo pure la mezz'ora quindi poi magari me la vedo un attimo io faccio una cernita di brawler e niente ragazzi per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale ciao ragazzuali ciao ciao